ciao bambini come state oggi vi faccio conoscere il mio amico doc doc è un robottino simpatico educativo che ci permette di lavorare all'interno di questo bellissimo tabellone vediamo come funziona per prima cosa bisogna accendere il nostro doc perfetto il nostro doc adesso è pronto doc presenta diverse modalità qui dietro la sua testa free education e game noi oggi lavoreremo nella modalità free ovvero potremo programmarlo noi attraverso i bottoni che ha sulla testa ha una freccia rossa che permette di andare avanti una freccia gialla che permette di andare indietro una freccia blu per girare a destra e una freccia viola per muoversi verso sinistra inoltre ha questo bottoncino con gli ingranaggi che nella nostra modalità education permette di fare un suono molto simpatico vediamo un po come giocare oggi giocheremo con l'utilizzo di queste carte magiche partiamo col pescare la prima carta la prima carta ci dice che posizionato doc sulla partenza dovremmo raggiungere la nostra ranocchia che ha posizionata lì e quindi in particolare il percorso che dovremo fare sarà avanti avanti destra avanti avanti e poi clicchiamo l'ingranaggio così che emetta un suono simpatico proviamo a vedere se funziona perfetto siamo stati bravissimi ora riposizioniamo doc nel punto di partenza e proviamo a pescare un'altra carta questa volta dobbiamo raggiungere la lettera t quindi avanti avanti destra avanti 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 perfetto e anche questa programmazione è stata perfetta ora tocca a voi bambini questo è il articolato dovete raggiungere la farfalla passando per il topo e per la nostra amica ranocchia pensate a quale percorso potrà fare il nostro amico doc per raggiungere la farfallina provateci voi immaginate di avere delle carte come queste con dentro i vari simboli avanti indietro destra e sinistra e provate a creare il vostro percorso sul vostro quaderno ciao bambini alla prossima